Non potranno essere liquidati prima di un anno i creditori che attendono pagamenti arretrati dal comune di Brolo. La comunicazione ufficiale giunge direttamente dall'organo straordinario di liquidazione insediatosi al comune brolese che ha deciso di rendere noto lo stato dell'arte anche alla luce dei solleciti e delle richieste di chiarimenti avanzate da parte di coloro che hanno presentato domanda per veder pagati i crediti avanzati nei confronti dell'ente. Una massa debitorie da far paura, circa 19 milioni di euro, un dato già emerso in passato e che viene dunque ribadito dalla Commissione, 317 le istanze di ammissione alla massa passiva aggiunte al comune, una mole di documenti cui l'organo di liquidazione non riuscirà a far fronte verosimilmente entro la fine del 2016 pur avendo l'amministrazione comunale aderito alla cosiddetta modalità semplificata di liquidazione. Successivamente all'accertamento della massa passiva, si legge nella nota della Commissione, si dovranno acquisire le risorse necessarie al pagamento dei debiti accertati, la cosiddetta massa attiva, attraverso la riscossione dei residui attivi, l'individuazione del patrimonio disponibile da alienare e l'acquisizione di avanzi di amministrazione che saranno prodotti dalla gestione ordinaria. I tempi, sottolinea l'organo di liquidazione, al momento non sono dunque prevedibili con precisione, ma appare oggettivamente improbabile che si possa essere nelle condizioni di effettuare i pagamenti ai creditori già nel corso dell'anno 2016. Da ciò che emerge, la principale difficoltà, oltre a quella della tempistica per l'espletamento delle pratiche, è ovviamente rappresentata dalla mancanza di liquidità sul conto del Comune.